La sclerodermia o sclerosi sistemica è una malattia poco conosciuta che colpisce tante donne. Una malattia silente che ha bisogno di essere diagnosticata in tempo per essere bloccata. Domenica in più di 100 piazze italiane il GILS offre il suo simbolo, il ciclamino, per sostenere la ricerca. Io ci sarò, vieni anche tu in piazza e aiutaci a lottare contro la sclerodermia. Grazie a tutti.